Si chiama Gavin White e pensate che sarebbe stato travolto da uno scandalo a luci rosse in Inghilterra. Infatti questo cacciatore dell'Irlanda nel nord sarebbe indagato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. Per colpa di un video girato durante una delle passate notti nelle strade di Belfast in cui White sarebbe apparso visibilmente ubriaco, si sarebbe masturbato per la strada. Il video sarebbe finito nei diversi social network, dal cacciatore di 22 anni di età sarebbe stato multato dal club. Le immagini poi diciamo che ci sarebbero state per quanto riguarda i festeggiamenti in quanto avrebbe ricevuto un premio intitolato proprio a George Best. White è una promessa, vi ricordo il calcio neo-irlandese, ha segnato ben 4 gol nella sua prima stagione in Ligue 1 e pensate che è andato anche a segno nel suo esordio nella nazionale. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, questo sarebbe quanto, chiaramente questo video non vuole alledere la parabosi di Gavin White ma vuole solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto. Un cordiale salutone a voi tutti ripeto e al prossimo video da narratore italiano alias Leandro.